Cosa sono i disturbi cognitivi nella fibromialgia? Bene, la difficoltà nella lettura, la difficoltà nella comprensione, la confusione, i disturbi della concentrazione. Per dimostrarvi quello che io sto dicendo, abbiamo provato a fare una simulazione con una nostra malata e brava attrice per cercare di rendere il più concreto possibile quello che io ho spiegato in brevissimo tempo. Quando, muovendo i miei primi passi nella cura del dolore, un'allieva studente mi raccontava di una paziente che vedeva in me anche uno psicologo. Non pensavo di meritare tale titolo solo per la mia predisposizione all'ascolto e al colloquio. Spesso, oh mio Dio, oh mio Dio, sto andando in confusione. Spesso su questioni inutile per la mia diagnosi e la mia terapia. Oh mio Dio, basta, basta. Non ce la faccio, non ce la faccio più. So io cosa ci vorrebbe per la mia terapia. Via, 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 via questa confusione. Via questa nebbia dagli occhi. Via questa testa pesante. «Ma come faccio? Ma come faccio? Non sono più io. Non sono più io. Ma che cosa mi sta succedendo? Non riesco a leggere, non capisco quello che è leggere. Sbaglio anche a parlare. Non riesco a concentrarmi. Non riesco a dire le parole. Anzi, anzi, le sbaglio. Poi, tante volte mi muovo e sono tutta vertiginosa, barcollo. E se mio marito mi dice qualcosa, sono disattente e non capisco. Vado in una stanza e quando sono lì mi chiedo, ma perché sono venuta qua? Perché? Allora, allora mi dico, Anna, scrivi, scrivi così non dimentichi. Che sofferenza. Avete potuto vedere, o meglio sentire anche, come Anna faceva fatica a leggere un semplice testo. Questo è quello che succede a molti dei nostri pazienti. E questo è un problema che li rende veramente invalidati. Dal punto di vista personale si sentono degli incapaci. Noi dobbiamo prendere molta attenzione in questo senso. Dobbiamo capirli perché non sono cose inventate. È la pura realtà. E quando loro ci raccontano questo, noi possiamo anche riuscire a capire quanto è importante sia la fibromialgia in tutti i nostri malati e quali sfaccettature, anche tragiche, può avere in alcune situazioni particolari. Quando abbiamo a che fare con i nostri pazienti, è importante ascoltarli. Ascoltare tutto quello che hanno da raccontarci. Perché proprio ascoltandoli e cercando di comprendere, a loro volta si sentono compresi. E questo è già un atto terapeutico importante nella cura della fibromialgia. Grazie a tutti. 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 Grazie.